ragazzi iscrivetevi al canale di affrede ggm e xxxxd per questo video quindi ragazzi clicchi like e buona visione non mi sono fatto nulla vabbè ma tu quanti punti sai 2.59 e la voglia di fare il segno se 2.22 doveva bene tutti i quali riguardo aveva capito no infatti ma quella bassa ora qua quasi c'è un combatt no combattigli si si alla città alla città ma ragazzi la fune dei pirati quanti ti da tanta lena ma ragazzi ma anche roccia un po' fin'antano da un attimo che co si 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 su si 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 e la madonna mi c'è un po schifoso ma io ce l'ho mutata uè che è qua uè, caffè siamo mutati no no, non sto cercando davanti al tastiere ah no, sto facendo l'arena vedete che stai facendo? l'arena, ecco perché oh, io l'ho detto, me la faccio venire uè, uè 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 no ma non mi ha giudicato colpi pompa e a piccoli no scusa il medio ma non mi sembra un po diceva 47 parla davide non guarda quando hai allora bravo che cosa comunque aperto si sta riscaldando per il compleanno 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Eccolo, sta volando. Mi sa uno che ha messo a terra un altro in bolo. Mi sa solo questo. Guarda, stanno lì. Ok. Allora, qua c'è anche l'anfondidone, che l'amore ramoso. Vabbè, dove? Per la serista, là che fa la scelta, la finora, qua. Per la serista, là che fa la scelta, là che fa. Per la serista. Fa freddo. Noi fai colpi pompa Di sotto Noi faiate Mi c'è una nuova Mi c'è una nuova Mi c'è una nuova Mi c'è una nuova Sono anche altri là Lo hai disciuttato Lo hai disciuttato Dove è che ti c'è una nuova Non mi c'è una nuova Non mi c'è una nuova no a me aspetta amassita ha a regga che c'è tenuto la champa mamma ma sta gente no 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 qua va giù qua 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 a me però che stanno la città ho sparato venga a mettere qua così con il sud e non ci sparo ciò si sparo non ci sparo a vedere qua come si muove scopro di dire ok 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 no no ok 500 298 40 bravo metto 297 500 e ma che cosa bravo il mattino il mattino stava con me quando stava montando quel video è che io stavo sul rocket no 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 che lo sai fare Giacomo mentre stavo lì no stava no stop no 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 stava 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 i ingasto i ingasto i ingasto i ingasto il destino i ingasto non si tu non è con una draga a dove operiamo a me mi servono coppie bomba una benzina invece una nuova è nuova è nuova papi che mi ha detto ma tu ah infatti c'è un altro lì 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 non ci stai Scusate ma i colpi medi quanti ce n'avete? Mi fa 66, io colpi medi non quanti ce n'ho? Mi è bloccato, aiuto! 34, vabbè raga lascia qui. Scusate ma la mia, dà ora io colpo. Vabbè? Oh Dio, vabbè raggiù! Non c'è qualche cosa? Nonna, c'è un'altra cosa? Oh Dio, vabbè raggiù! Oh Dio, vabbè raggiù! Nonna, nonna! un po' più medi, vedi qua ve li do stanno passando sotto, vedi raga arriva questo te la passo sotto, vedi 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 ucciso, bella devo riuscire a uscire il video colpi il video colpi, vedi ah ci sono qui esco e non mille qui, vedi qua ecco grazie bro no no già c'è no 73 73 so bene, so bene di tutti vedi qua vedi qua vedi qua bella dove cosa stava? stava più lunga ma che cosa? ma che cosa? ho fatto la zona, ho fatto la zona ma è questa è la zona no 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 si si è 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 15 19 e blue 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 con le viste a farlo e da 72 bianco sono a 4b fatto dai cazzo morto a terra 1 bravo bravo amere si è dalla mia a ci sono non so con due ma 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 c'è un soldato Oh madonna Ragazzo lancia Non c'è ma c'è ma c'è Non c'è ma 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 c'è Vai Vai Pazzardo Questa un'altra Dov'è un'altra è la carico su canale è chegato e vai su canale